un regalo oppure mi canta tanti auguri a te e io mi sciolgo dentro al tavolo cioè tanti auguri a te preferisco farlo io agli altri ma non lo so, esiste questa specie di resistenza per una serie di ragioni, cioè tipo quando ti portano i regali oppure scatta la carta, è una cosa che non mi è mai piaciuta particolarmente Paolo però quest'anno, infatti quando arriva il 25 luglio e siamo veramente o in famiglia o qualche amico ma mai una celebrazione quest'anno però ho detto c'è un compleanno importante che va festeggiato perché se non fosse per quello strumento io oggi non sarei qui e quest'anno ci sono due compleanni importanti uno sono i 150 anni della nascita di me, Guglielmo Marconi il quale grazie a lui, molti di noi fanno questo mestiere ma soprattutto grazie a lui il mondo si è messo in collegamento e in comunicazione e poi guarda caso il 6 ottobre del 1924 quindi tra pochissimo ci sarà il compleanno della radio